l'opera che vedete qui raffigura via dei medici una delle due figlie illegittime di cosimo primo in un ritratto impressionante e magnetico carico di gelida suggestione è forse uno dei ritratti più belli eseguiti dal bronzino per la famiglia medici la bambina che porta al collo un medaglione con il profilo di cosimo è colta con un'espressione di lucida fissità in perfetto accordo con la felicità incantata dell'infanzia e il suo lievissimo sorriso crea una magica aria di suspense venne eseguito in tutta probabilità postumo come ricordo della bambina morta a cinque anni nel 1542 il duca addoloratissimo ne fece estrarre la maschera mortuaria in gesso inventariata nella sua guardaroba nel 1553 dove era registrato per la prima volta anche il ritratto di via dipinto dal bronzino di cui parla giorgio vasari nella biografia del pittore alcuni studiosi hanno ipotizzato che il bronzino non abbia realizzato l'effigie della bambina dipingendola dal vero ma che abbia utilizzato la maschera bronzino immaginò la bambina a mezza figura seduta su una sedia lo sfondo si accende attorno al volto evidenziandolo uno sfondo astratto come in molti altri ritratti del bronzino di un lapislazzulo quasi smaltato la luce fredda e l'assenza di effetti chiaroscurali forti accentuano la levigatezza dell'incarnato e fanno del ritratto una sublime idealizzazione nonostante l'abbigliamento della giovinetta il cui colore bianco è allusivo sia alla purezza sia al nome bianca e l'abbondanza di gioielli che la connotano come una principessa adulta l'eccezionale talento del bronzino ha permesso di infondere a questa vitale immagine infantile tutta la vivacità di un ritratto dal naturale cui contribuisce anche la posa seduta ma pronta a scattare in piedi con un'esuberanza a malapena trattenuta e l'irrequieto giocarellare con la cintura tra le dita allo stesso tempo però restiamo catturati dallo sguardo che è rivolto con intensità verso di noi uno sguardo che condensa un insieme di nobilità autocontrollo compostezza severità distacco ogni sentimento viene trattenuto e filtrato dall'immota maschera dell'aristocrazia video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito a